Aveva pensato bene di prendere di mira la macchina di un anziano, peccato che la vittima fosse un ex ufficiale della Guardia di Finanza, che certo non è stato a guardare. Il malvivente, un cinquantenne romano con vari precedenti perreati contro il patrimonio, ha approfittato del fatto che l'anziano si fosse allontanato dall'auto senza chiuderla a chiave. Si è quindi intruffolato all'interno dell'abitacolo per rovistare e rubare, ma l'anziano, che era poco lontano, si è accorto di quanto stava accadendo ed ha colto sul fatto il cinquantenne che ha immediatamente tentato la fuga. La vittima lo ha ferrato per la giacca e si è fatto riconsegnare il magro bottino, due paia di occhiali ed un cavetto di ricarica del telefono. Poi il malvivente ha inforcato la bici per allontanarsi spingendo a terra l'ex finanziere, ma l'anziano non ha lasciato stare e rialzandosi ha urlato richiamando l'attenzione di alcuni passanti. Il cinquantenne è stato quindi bloccato fino all'arrivo delle volanti. Addosso aveva un utensile multiuso tascabile, dotato di chiavi, cacciaviti, pinze e lama. L'uomo è stato così arrestato per rapina e possesso ingiustificato di arnesi atto allo caso. l'uomo è stato così Grazie a tutti.